Anne e Barbera, creatori di moltissimi cartoni di successo, ebbero una crisi negli anni 60. Una serie di cartoni troppo violenti convinsero i genitori a impedire ai bambini di vedere l'ennesimo episodio su un mostro ucciso a colpi di pistola. Ma se i bambini non guardano il programma, allora l'emittente non lo richiede più, e quasi tutti i cartoni Anne e Barbera vennero interrotti all'improvviso. Serviva un nuovo successo. E qui arriva Scooby-Doo, non serve che vi presenti Scooby-Doo, la serie animata è uno dei cartoni di più grande successo di sempre, e tutti lo amavano per come giocava con la paura e i misteri. Forse non sapete che la serie durò solo 17 episodi. Sì, tutto Scooby-Doo è solo 17 episodi, più altri 8 usciti un anno dopo visto il successo della serie, ma finisce lì. Il primo mostro fu il Cavaliere Nero, anche se mostro non è la parola corretta, visto che l'idea fondamentale era che l'unico mostro di cui avere paura fosse l'uomo. Anche se forse non lo sapete, visto che nel doppiaggio italiano non le hanno mai inserite, Scooby-Doo aveva le risate in sottofondo registrate. E ognuno nel gruppo di ragazzi aveva un ruolo. Scooby è il cane, se non ci fosse un cane sarebbe un gruppo di ragazzi dimenticabili, Shaggy è quello che fa coppia con il cane e fa ridere. E lo scopo di Shaggy è avere paura ed essere di conforto ai bambini che come lui hanno paura dei mostri. Il tutto facendo un sacco ridere, visto che il suo alano con il mascellone e le spalle grosse aveva più paura di lui. Gli altri invece sono di cliché. Velma c'è, perché è necessaria. Cioè, abbiamo il cane, bello, bellissimo, ma è una serie sui misteri. Una che li risolva doveva pur esserci. Fred e Daphne, invece, esistono per un solo motivo. Perché la serie non poteva essere su Velma e Shaggy. Fred è solo maschio. Questa è la sua unica caratteristica, essere maschio. Lui crea le trappole, perché non possiamo mica far fare tutto a Shaggy. Daphne, essere femmina. E visto che le trappole le fa Fred e che Daphne, in quanto donna, non può essere mica quella che guida il furgone, siamo negli anni 60, dopo tutto, la specialità di Daphne è essere donna. Ma questo è un perfetto spaccato della nostra società. La serie è uscita nel 1969 e non ha colpe, figlia del suo tempo, e va bene così. E in più, se non fosse stata fatta così, non avrebbe avuto successo. Ora, ragazzi, il motivo è semplice. C'è un motivo molto esplicito per cui Daphne e Fred esistono. Perché sono belli. Sono belli esteticamente, sono gli ideali di bellezza anni 60, sono bianchi, normali, ideali. Perché questo è quello che ti aspettavi dei tuoi figli. Femmina, devi essere bella. Bella come una statuina d'esposizione. Se una donna ha un difetto, andrebbe corretto. La donna deve radersi, truccarsi, profumare, essere composta, perfetta. E più la donna è lontana dalla perfezione ideale estetica, meno è donna. L'uomo? L'uomo deve essere forte, deve essere un carro armato, nulla lo può scalfire. La rabbia va bene, ma essere triste, piangere no. Al massimo una lacrimuccia se è davvero grave. L'uomo deve sostenere, tenere tutto dentro, dimostrare che non prova nulla, essere virile. Più sei debole, meno sei uomo. Certo, puoi ruttare ed essere brutto. Basta che tu non sia fragile. Prendete il film medio italiano. C'è sempre un uomo che, non dico sia brutto, ma può permettersi di essere grasso, stempiato, stupido, imbarazzante, vecchio, povero, ma conquisterà sempre una donna più bella di lui. Tolto il meraviglioso Pantozzi, in Italia è come se gli attori avessero la fobia di essere rappresentati accompagnati da una donna che non sia una fotomodella. Ecco, tutt'oggi esiste chi ragione in questo modo, dove la donna è un trofeo, un accessorio dell'uomo per dimostrare che te la puoi permettere, finendo poi per ignorare e svilire tutte le altre donne. Per questo tutti preferiscono Shaggy. Shaggy ha paura, può permettersi di essere inaffidabile, di essere sincero, di essere piccolo, gracile, fallace, un ometto. Per questo non poteva essere mica il protagonista. E Velma? Velma è ancora più di Shaggy. Velma poteva tranquillamente essere Daphne. Perché abbiamo Velma che, beh, fa tutto lei, e abbiamo Daphne che invece non fa niente? Perché Velma non poteva essere anche bella o Daphne essere anche un genio? Eh sì, perché Velma è brutta, non so come funzionano gli standard di bellezza femminile personalmente, ma venne disegnata per essere brutta. Questa è una vera dinamica del tempo. Guardate il mio video sulla storia dell'immagine della strega e capirete che la donna studiosa non è mai stata ben vista. Poi con la scolarizzazione, ben venga, si è creato però un problema. La donna doveva essere bella e questo bastava. Tutte le donne dovevano mirare a questa bellezza. Ma essere studiosi era l'altra opzione. Bella e studiosa? Impossibile. Infatti Daphne era lì perché Velma non contava come personaggio femminile. Perché anche se di Daphne non ce n'era bisogno, si dava per scontato che nessuna bambina avrebbe mai voluto essere Velma. E se il cartone doveva attirare sia maschietti che femminucce, allora dovevano esserci dei buoni esempi di entrambe, ovvero Fred e Daphne. E poi gli altri. A tal punto che a risolvere i misteri erano Shaggy e Velma in realtà, eppure Fred e Daphne erano i protagonisti al centro di ogni locandina. Questa non è una critica alla serie, tranquilli. Non mi ha dato fastidio e continuerà a non farlo mai, ma dobbiamo rifletterci anche per capire quello che è successo dopo. Anche perché non lo sapete, ma Velma per parecchi anni è stata rimossa dalla serie. Anche la serie da cui Scooby-Doo era ispirato, Archie e Sabrina, sì, la Sabrina Spellman che tutti conoscete arriva da questa serie animata. Quella serie era durata solo 17 episodi a sua volta. A questo punto la serie era da considerarsi finita. E sì, voi direte, ma se era un successo perché non acquistare episodi nuovi? Ma perché la società era diversa? E ai tempi l'idea era perché dovrei acquistare nuovi episodi se posso rimandare in onda quelli vecchi? Serviva un'idea che convincesse l'emittente a dire Oh, ma questi episodi sono speciali, proprio questi li devo trasmettere questi quei nuovi. E quindi uscirono ben 25 episodi di speciale Scooby, in cui in ogni episodio i protagonisti si imbattevano in star del momento, come Dick Van Dyke, Cher, Cass Elliot, la famiglia Adam, Staglio Olio e persino Batman e Robin. Il tutto in giga episodi da 45 minuti. Da qui fecero varie varianti dello show, dai mini film Scooby-Doo che va a Hollywood, a variante con il cugino Scooby-Dum o il nipote Scrappy-Doo, di cui tutti si sono pentiti. In queste serie Fred, Velma e Daphne avevano un ruolo sempre più marginale, finendo addirittura a un certo punto per non apparire più. Finché nel 1984 non uscì una nuova serie di 99 episodi, in cui c'erano solo Daphne e Shaggy. Questo perché serviva un personaggio femminile, ma non potevano mica mettere Velma. Poco dopo uscì Scooby-Doo e i 13 fantasmi, una serie fallita prima del finale, in cui erano presenti solo Shaggy e Daphne, ma con un nuovo stile anni Ottanta. uscirono pure dei film con Shaggy, ma senza Daphne. Insomma, mille spin-off e varianti dove, quando appariva, Velma e il resto del gruppo erano identici a 40 anni prima. Questo almeno fino al primissimo vero e proprio film. Nel 1998 Cartoon Network si rese conto di avere tra le mani i diritti di Scooby-Doo, e quindi poteva utilizzarlo di nuovo per nuovi cartoni. E il primo fu Scooby-Doo sull'isola degli zombie. Il primo di una serie molto fortunata di film che di sicuro tutti quanti avete visto. Racconta la storia dei nostri ragazzi che hanno smesso di investigare, delusi dal fatto di non aver mai trovato un vero fantasma. Ed ecco che stavolta lo troveranno. Il film sapeva di uscire 30 anni dopo la serie, e dovette cambiare un po' i personaggi. Non certo Shaggy, lui funzionava, tanto per iniziare Velma, a cui venne dato un interesse romantico. Ma rimaneva comunque il genio del gruppo. Ma anche il personaggio in difficoltà stavolta. Dal momento in cui quello che le si presentava davanti questa volta era davvero inspiegabile. Il vero cambiamento venne fatto a Daphne e Fred. Era ormai chiaro che nel gruppo Velma e Shaggy erano i veri personaggi, e Daphne e Fred esistevano solo perché Shaggy e Velma non erano considerati appetibili o adeguati al pubblico per le sue necessità. In questo film, invece, Fred era un cameraman. Un personaggio di supporto a Daphne. E attenti, il film era fatto con cura, ci si ricorda in ogni scena di farlo filmare. E Daphne, invece, diventa il motore dell'azione. Lei sta girando un programma, lei intervista, lei sta cercando i fantasmi, lei fa succedere le cose e crea le situazioni. Questi ruoli erano più attivi, però erano anche più difficili da gestire in un'eventuale serie. Erano molto utili in questo film, ma troppo poco definiti per poter creare altro. Nel 2002 uscì il film live action, Scooby-Doo. Qui, di nuovo, la banda venne cambiata. O meglio, la genialità del film consiste nel fatto che la banda non venne davvero cambiata. Certo, Daphne impara le arti marziali, che da questo film in poi diventeranno una cosa abbastanza ricorrente del personaggio, o Shaggy, che fa accidentalmente continui riferimenti all'erba, come quando il suo furgone hippie fuma tipo Stoner Box, ma in realtà stanno cuocendo i burger, o quando trova i suoi fan seguendo l'odore. O Velma, il regista voleva rendere lesbica in questo film, ma non era permesso in un film di questo tipo. Ma la chicca è un'altra. Non potendo gestire questi personaggi, in un film del 2002, si decise di farli litigare. Il gruppo si divide all'inizio del film, accusando Shaggy di essere quello che rovina i piani, Daphne quella che si fa solo rapire, Fred quello che si prende il merito di cose che non ha fatto, e Velma quella che fa tutto il lavoro sporco. Si si era resi conto del fatto che Velma fosse un personaggio molto amato. Come ragazza, di fatto, era la donna forte del gruppo, quella che risolveva i casi da sola, l'eroina. In questo film, però, ogni membro del gruppo cerca di affrontare il caso per conto proprio. Questo potrebbe essere l'occasione per dimostrare meglio le loro personalità, ma essendo quasi assenti, bisognava trovare qualcos'altro, infatti a un certo punto del film li fanno addirittura scambiare di corpo pur di tirar fuori qualcosa e spremere fino all'osso questi personaggi. I film di Scooby-Doo ne fecero parecchie. Ma anche una nuova serie, Le Nuove Avventure di Scooby-Doo, una serie che cercava di svecchiare i cliché in uno stile perfettamente adeguato all'originale. Il brand di Scooby-Doo si stava dimostrando estremamente efficace anche dopo tutti questi anni. Ma la prima modifica davvero importante è stata in Scooby-Doo, Mister Incorporated. E in questa serie i ragazzi tornano a casa e affrontano il più grande caso della loro vita, nella loro città natale. E in questa serie il contesto più serio e oscuro rese sensato un cambio di carattere più facile da gestire. Daphne divenne più umana, non solo una bambolina, ma un personaggio con preoccupazioni, con gaffe, opinioni precise e per quanto sempre comunque femminile anche un genio nel suo campo. C'è persino un episodio in cui Daphne lascia il gruppo e i ragazzi falliscono e non risolvono il mistero finendo per scoprire che il gruppo senza Daphne non funziona così bene. Così come Fred era diventato un genio nel campo delle trappole, nonché il membro che più di tutti teneva il gruppo. E Velma invece divenne un personaggio in grado di commettere errori. Per quanto logica, Velma ora poteva commettere errori emotivi dalla dubbia etica o talvolta essere poco gentile, anche se restava sempre, prima di tutto, un'adorabile studiosa. Il gruppo restava unito e coeso e le caratteristiche principali dovevano restare per forza principali, mentre le aggiunte e i sottotesti c'erano, sì, ma la regola era che non dovevano mai intaccare la caratterizzazione classica dei personaggi. Shaggy era un bonaccione, fifone, gentile, ossessionato dal cibo e questo non poteva cambiare. O non sarebbe più stato Shaggy. E quindi poteva essere tormentato dal suo passato, innamorato, o avere altre caratteristiche in questa serie, solo a patto che non intaccassero ciò che era davvero importante perché Shaggy restasse Shaggy. Se Fred avesse smesso di creare trappole e di guidare il furgone e di fallire nei suoi piani e di essere coraggioso, non sarebbe più stato Fred. E allora tanto valeva dargli un altro nome e creare un personaggio nuovo. E tra le tantissime versioni che hanno fatto di Scooby-Doo, da quella con solo Daphne e Velma a numerose varianti che seguono comunque sempre la stessa regola ma di cui nessuno ha ricevuto un particolare seguito che mi venga in mente, tutti i cartoni che imitavano la formula di Scooby-Doo di fatto non funzionavano. E pensate anche solo a Goober dove le uniche differenze stavano nella presenza di mostri veri e nell'assenza di esseri umani con un carattere decente. Poi c'è stato Scoob che è stato il primo film d'animazione di Scooby-Doo trasmesso al cinema. Il film racconta l'inizio della gang ma il suo tema centrale è il ruolo dei ragazzi nel gruppo tra l'altro scherzando in modo intelligente i suoi cliché. Nel film la banda capisce di dover prima o poi guadagnare, pagare le tasse, avere un lavoro perché la benzina del furgone non è gratis ma se Velma risolve i misteri Fred fa i lavori di forza e Daphne è la ragazza immagine delle relazioni pubbliche si lo dicono davvero nel film ed è effettivamente il ruolo che aveva nella serie originale rispetto agli spettatori Shaggy e Scooby sono le palle al piede. Non vogliono nemmeno farlo questo lavoro finendo quindi per vivere un'avventura con altri personaggi Anne e Barbera sì ok c'è stato qualche problemino in questa avventura il film non è perfetto è molto imperfetto ma ora il film si concentra su questi due ma anche guardando gli altri film come quello con Leone e il cane fifone si hanno fatto un film con Leone e il cane fifone e la cosa che io mi chiedo è perché non prima avete cioè la Cartoon Network da vent'anni aveva due storie due cartoni animati due IP entrambi sul mistero e personaggi inquietanti entrambi in cui c'è protagonista un cane che ha la caratteristica principale di essere un fifone e loro non ci hanno mai pensato beh ora ci hanno pensato effettivamente quindi devo dire che è stato bellissimo vedere per quella che per ora è stata l'ultima volta Leone e il cane fifone anche se senza il suo creatore però comunque è stato un film ma che non vale un granché non è che io ve lo consigli però sappiate che esiste è importante sapere che esiste comunque in un sacco di film come questo Velma e Shaggy alla fine erano gli unici personaggi validi quelli che risolvevano il mistero mentre gli altri facevano da sfondo ma non possono essere rimossi anche per questioni affettive però cambiare le cose era necessario da parecchio tempo peccato che alla fine abbiamo avuto Velma la serie dove Velma è indiana e lesbica o bisessuale la serie è ancora in corso quindi non lo so questa serie è diventata il simbolo del male con una valutazione del pubblico così bassa da battere vari record e che cosa è successo a Velma in questa serie? nella serie Velma Velma stessa afferma che Fred fosse sempre stato il personaggio più amato e che Velma fosse solo ignorata quando non era così anzi in questa serie Velma parla parecchio e tutto ciò che dice è sbagliato come sapete negli ultimi anni l'inserimento di minoranze nelle serie tv è diventato sempre più frequente i due gruppi più grandi sono coloro che erano stufi di vedere rappresentazioni fatte a tutti i costi e male divise tra quelli che avrebbero preferito nessuna rappresentazione e quelli che avrebbero preferito una buona rappresentazione e poi ci sono i due estremi ai due opposti coloro che sono convinti che tutti gli altri vogliono a tutti i costi indottrinarci tutti e sminuire l'uomo bianco le persone insomma che boicottano Peppa Pig perché il padre è al centro di battute dove si sottolinea la sua incapacità e questo è un modo per abbattere l'uomo bianco meglio che sono quattro gatti alla fine anche perché è vero che ci sia questa rappresentazione all'interno di Peppa Pig ma è anche vero che Peppa Pig è un cartone di 19 anni fa ben più vecchio del movimento woke sì Peppa Pig è uscito 19 anni fa basta trattarlo come un cartone contemporaneo non lo è là fuori c'è Bluey e voi state ancora parlando di Peppa Pig c'è gente che si è sposata e ha dei figli che quando andava all'asilo guardava Peppa Pig rendetevene conto è vecchio e poi c'è l'altro estremo che sono sempre quattro gatti quello che considera razzista l'episodio di community in cui Chang si traveste da elfo ma si traveste di nero quando è più che evidente che nessuno avrebbe mai associato questo elfo a un afrodiscendente soprattutto su Netflix dove è ancora disponibile il ricco, il povero e il maggiordomo non che io chieda che venga cancellato ma sto solo sottolineando il doppio pesismo della situazione ecco immaginate se questo gruppo di estremisti quest'ultimo quello che considera Chang razzista facesse una serie bene eccola qua qui tutti sono minoranze e per tutti sono minoranze intendo dire Daphne Daphne è asiatica ma è anche bisessuale ma è anche figlia di una coppia di lesbiche che però è anche una coppia mista e anche Daphne è coinvolta in una coppia mista e saffica e anche dei genitori biologici e dice che pure pure loro sono una minoranza sono dei gangster che però rendono Daphne ancora più minoranza in quanto lei è figlia di gangster abbandonata e rapita e tutti i personaggi sono così fanno parte di 15 minoranze a testa l'unica famiglia bianca con una coppia etero è fatta di persone orribili e Fred è un figlio viziato da un padre maschio tossico e una madre altrettanto problematica Fred non sa tagliarsi la carne da solo non sa pulirsi il sedere Fred è arrogante maschilista convinto che tutto gli sia dovuto ogni volta che un maschio bianco etero parla o dice cose in questa serie sono sempre del tutto stupide tanto è vero che a un certo punto Velma regala a Fred un libro femminista e Fred scopre il Nirvana a un'epifania e sconvolto da questa nuova idea che le donne siano persone proprio come gli uomini e che abbiano dei diritti e non sono solo un buco e direte me lo diranno per scherzo come in South Park dove c'è la famiglia bianche che di cognome fa bianche che poveretta è vittima di piccolezza e nessuno se ne accorge da cui arriva lo slogan perché nessuno pensa ai bianchi no 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 questa serie quando dice queste cose è seria Velma in più occasioni è la vittima che nessuno ascolta quando grida che il patriarcato è brutto nessuno le crede ma non è così che funziona il mondo reale non è vero che nessuno ci crede che il patriarcato è brutto lei viene trattata come se fosse il genio che ci è arrivata lei anzi per tutta la serie critica e insulta i bianchi e gli etero come a dire come a dire non solo che questo in qualche modo vada bene ma sarebbe anche consigliabile da fare quando nella stessa serie se un bianco fa anche solo vagamente il contrario è considerato razzista la serie ha un serio problema di doppio paesismo ci sono battute in cui i personaggi si accoppano a vicenda e si tagliano le gambe ma nella stessa serie stanno indagando su omicidi quindi quanto è grave l'omicidio se tu mi fai delle gag in cui si ammazzano persone ma torniamo a Velma che critica chiunque tranne se stessa critica i nerd come incapaci e molesti critica i popolari come superficiali e spocchiosi c'è l'episodio in cui Daphne le fa notare che dovrebbe giudicare un po' meno ma la morale dell'episodio resta che Velma ha ragione e che i bianchi etero cis sono tutti cattivi e tutti colpevoli delle sue sofferenze questa non è uguaglianza questa è vendetta ragazzi è verissimo che ci sia stata una pessima rappresentazione delle donne in passato eccetera ora non è che dobbiamo vindicarci facendo una pessima rappresentazione di bianchi ragazzi ma stiamo impazzendo ma no 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 tutta questa lotta serve a fare in modo che veniamo tutti rappresentati in modo decente quando necessario in modo corretto all'interno dei media ma ricordate la regola della caratterizzazione da non cambiare nei personaggi ecco Velma non ha intuizioni in questa serie non è geniale Fred non è coraggioso anzi non è un leader in nessun senso Daphne è sì bella e popolare ma questa caratteristica è secondaria rispetto ad altre e Shaggy non fa ridere o meglio fa ridere Velma che ride di lui perché lui è interessato a lei e lei quindi lo umilia e questo nella serie dovrebbe essere una gag divertente niente dei vecchi personaggi mantenuto come se fossero dei cosplay altri personaggi vestiti come protagonisti di Scooby-Doo come se la serie fosse pensata per essere una serie a se stante ma poi ci hanno infilato Scooby-Doo perché ci stava beh ragazzi questa serie che non è nemmeno un vero giallo perché per ora non hanno ancora iniziato a indagare su niente magari inizieranno nel prossimo episodio per ora è l'ultima rappresentazione di Velma ma io penso che sia fantastico sia fantastico che ci sia stata spieghiamoci meglio le rivoluzioni sono rivoluzionaria cioè durante la rivoluzione francese tagliarono la testa a re e regine e fu importantissimo non perché si volesse arrivare a tagliare la testa a tutti i re e le regine no non perché si volesse che la normalità diventasse uccidere il monarca quando non ti soddisfa più non era tendere all'esagerazione lo scopo ma serviva alla maturazione della società serviva esagerare tagliare la testa al re per arrivare poi a un equilibrio stabile tant'è vero che anche se i francesi sventolano ancora la bandiera della rivoluzione non si discute più di ammazzare il capo di stato o quantomeno o quantomeno non in modo serio non nella misura del 1789 così sono funzionate tutte le rivoluzioni come la rivoluzione sessuale negli anni 60 e 70 quella di Neri con Norimberga persino l'insuccesso di Velma è un gradino necessario all'arrivo a un equilibrio l'insuccesso di questa serie significa aprire una discussione che abbiamo avuto in questo video e in questi commenti che è fondamentale per assestarci e arrivare a uno scopo ultimo che è lo scopo di tutti quanti ovvero una moderata rappresentazione che se qualche anno fa era illegale e ora è ostentata in futuro dovrà essere solita ma non necessaria e non urgente abbiamo sempre paura che le cose degenerino ma nulla degenera all'infinito e in un mondo fatto di soldi il pollice in giù di questa serie è un evidente passo nella direzione della moderazione perché nessuno vorrà più investire in un progetto di questo tipo perché si sono accorti che non vende e perché non vende perché la società è abbastanza matura da guardare Velma e dire eh no no questo è troppo che è quello che sta succedendo vorrà ricordarvi che le persone che criticano Velma sono le stesse che hanno adorato Adventure Time soprattutto perché c'era una coppia di lesbiche e cose del genere insomma parliamone però la rappresentazione è la cosa più importante al mondo come nella nuova serie My Little Cock perché devono essere per forza poni mettiamoci le galline vota anche tu per My Little Cock ne approfitto per ricordarvi ancora una volta che su Pampling con il codice ZU che avete accesso a non solo magliette questa è una penna fanno le penne su Pampling sì 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 è di Pampling è di Pampling è di Pampling giuro usando il codice tra l'altro vi potete prendere un regalo per il vostro amico a cui non sapete che cosa regalare e quindi che ne so gli prendete una bella tazza ok una bellissima tazza con la scritta ricordati chi sei così fate la figura di essere le persone che in realtà sono profondi e ci hanno pensato gli regalate una cosa del re leone lui è tutto felice perché tutti abbiamo visto il re leone da piccoli e tutti siamo soddisfatti e la tazza comunque è buona perché è una mag tranquillissima bellissima ovviamente con il logo di Pampling bene a quanti di voi ho appena salvato il regalo grazie a tutti